Quindi vi posso rompere le palle dieci minuti? No, dieci no, due o tre minuti posso farvi una cosa di percussioni, poi, che ne dite? Tutti convinti, eh? No, avete fatto bene invitarmi, guarda quanta gente ho portato, è stato una delle serate più numerose. Eh no, questa dovete scegliere bene, va bene, va bene, applauso, applauso, che si va a fare, quindi, farò una pesina molto, molto, molto veloce, di pochi secondi. Si finca sempre a soppare nella stanza. No, perché volevo fare un colpo di teatro, però non mi è riuscito, perché non si sente niente. Va bene, arrivo. I gabineti? No, scherzo. Oh, grazie. Oh, grazie. Oh, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.